amici del sito www.gianlucarossi.it del canale youtube gianlucarossi tv una buona giornata ancora dalla salento dove forse vedete un po sballottare l'inquadratura d'altronde qui c'è l'oyentu che poi è il vento ed è anche una delle meraviglie insieme all'usole e l'umare che l'è in fondo appunto l'oyentu di questo posto che è ventilato ma non sono qui per parlarvi del salento il salento del salento non si parla il salento si ama il salento si vive come faccio io da molti anni ma al di là di questo oggi insomma ho avuto modo di fare un pochino di telefonate per capire che cavolo sta succedendo nel mercato inter perché a un certo punto non passava non passava nemmeno cinque minuti che uno mi scriveva tonali eccetera ma cosa stiamo combinando ma lo stiamo perdendo ma l'avevamo in pugno e con bullà non se ne parla più allora una cosa è certa ragazzi poi ognuno ha le sue fonti le sue sorgenti io vi dico quello che so io quello che hanno da detto a me piccola parentesi in abbastanza da ridere perché se c'è uno che ha sempre predicato la stabilità societaria ancora oggi c'è qualcuno che dice ma tu tiravi la volata all'allegri io non tiro la volata a nessuno io faccio cronaca allegri era pronto a diventare il nuovo allenatore dell'inter adesso visto che state vedendo alcuni di voi le prime scelte di conte mi scrivete che forse era meglio così no non era meglio così la strada migliore ricordatevelo per un grande club è sempre la stabilità quindi conte ha scelto il progetto triennale l'inter ha scelto conte per un progetto triennale la prima opzione è andare avanti con questo progetto triennale nel primo anno abbiamo sicuramente aumentato il nostro rendimento stagionale la nostra caratura ora nel secondo anno sono io il primo a dirlo è il momento di vincere allora diciamo che dal patto di villa bellini alla fine conte è uscito dettando le sue condizioni ma ricevendo evidentemente anche delle condizioni dalla società per esempio una cosa che mi sfugge perché continuiamo a menarla con messi non voi ma qualcuno continua a parlare di messi quando poi la insomma l'indirizzo abbastanza chiaro ancora una volta bisogna cercare di vendere prima di acquistare perché bisogna mettere in cassa un po di soldini quindi le risorse sono sempre quelle per cui se vuole su un'incompra tutto se vuole su un'incompra interi club interi società però poi stringi stringi ragazzi alla fine io sarò uno che vi dice a bruciapelo le verità vedi che alla fine siamo qui a questionare per tonali a rischiare di perdere il derby di mercato per tonali intanto lo ientu si fa sentire vedo l'inquadratura che balla allora dal patto di villa bellini abbiamo capito una cosa sono tante cose che abbiamo capito e che ho verificato sicuramente le linee di mercato dell'inter alcune linee di mercato sono cambiate non so se avete fatto caso ma non si parla più di cumbulla cumbulla maras cumbulla che a me piaceva perché comunque ero curioso insomma di di vederlo all'inter dopo un ottimo campionato al verona non è più una priorità quindi da quanto capisco io evidentemente cumbulla non viene più all'inter perché conte ha preferito kolarov e ci sta kolarov è un giocatore che fa gol su punizione un giocatore mancino un giocatore che può fare anche da chioccia ovviamente ad alessandro bastoni e quindi va benissimo ok qualcuno mi dirà beh ma insomma ma come dopo che vi avete detto e no conte eccetera bisogna assolutamente andare avanti con la continuità adesso si fanno le prime scelte non vi vanno bene certo che anche voi siete forti e ragazzi e tifosi nerazzurri alcuni di voi quindi kolarov sarà l'uomo che lui vede come terzo a sinistra nella difesa tre o addirittura che può interpretare il ruolo là in fondo sulla sinistra quello per dire per essere chiari che interpreta young e continuerà a interpretare young e che interpretava anche biraghi però diciamo che kolarov è lì anche per fare da chioccia a bastoni mi dite che vecchio non vi va bene ma ripeto quanto ai vecchi prepariamoci perché non c'è più cumbulla e c'è kolarov e allora a centrocampo c'è il rischio che non ci sia neanche più tonali cioè tonali non è più una priorità e il ragazzo ventenne di lodi poverino è chiaro che si guarda in giro ma non tanto perché sia milanista ma insomma da un mese e mezzo è convinto che viene all'inter improvvisamente dal patto di villabellini cambiano le strategie che poi devo dire che conte non ha mai cambiato idea è conte ha sempre detto io voglio giocatori pronti per vincere subito ed ecco quindi il sempiterno vidal che a voi non piace che lui conosce bene che ha un estracampo anche lui come dico sempre tutto da verificare però evidentemente l'estracampo di vidal a conte non dà fastidio quindi diciamo che a oggi e la cosa mi dà molto fastidio se collaro prende il posto di cumbulla e ci può stare non ne faccio cumbulla non ne faccio una malattia insomma il fatto che noi si lasci perdere tonali io continuo a sperare che se deve arrivare vidal arrivi comunque anche tonali proprio per quello che vi dico sempre facciamo il cocktail di giocatori diciamo qualcuno dice vecchi io dico esperti per poter vincere subito ma anche di giovani che possano crescere e durare quindi non riesco a capire torno a dire perché continuiamo a menarla commessi altri continuano a menarla commessi e poi però siamo lì ancora su tonali un po' inebetiti tentennando e favorendo un derby di mercato che se vince il mila onestamente mi fa un po' incazzare e voi vi direte vabbè ma noi prendiamo cantè prendiamo dombele vabbè ho capito ragazzi però al momento io finché non li vedo sto a quello che so e a quello che mi dicono andiamo avanti perché i soldini per fare determinate grandi operazioni da quanto ho capito devono essere presi da Skriniar e qua mi dispiace tantissimo che il mio amico che io ho sempre chiamato Ubaldo per non chiamarlo Milan io l'ho anche conosciuto personalmente mi pare un ragazzo meraviglioso però evidentemente ragazzi che cosa devo dire Conte evidentemente non lo vede più l'ho visto per la prima parte di stagione e Skriniar qualcuno dice che potrebbe andare al Tottenham al Chelsea per le operazioni in Don Belè Cantè eccetera in realtà mi pare che qui sia in piedi a oggi nel momento in cui vi parlo un eventuale discorso per portare qui Leandro Paredes ecco questo non è un ultra trentenne c'ha 26 anni Paredes potrebbe anche andare bene e però dobbiamo rinunciare a Skriniar se questa operazione va in porto quindi Paredes viene in pratica a fare gruppo a centrocampo un altro centrocampista che ovviamente potrà prendere il posto poi in rosa di Gagliardini che non so se resta ma magari Conte lo tiene sicuramente di Vessino e di Borca Valero che poverino si era guadagnato un altro anno di contratto ma mi pare di capire che adesso è anche lui sul mercato perché se bisogna in qualche modo prendere dei soldini io non so veramente quanti soldini si possano prendere dagli esuberi che abbiamo noi vediamone un attimo insieme allora Nainggolan Nainggolan ancora in ammortamento costa qualcosa come 19-20 milioni lì c'è sempre in ballo un discorso col Cagliari magari c'era anche una mezza frase per avere il portiere di riserva al posto di Padelli in cranio insomma Nainggolan non mi preoccupa andiamo avanti Perisi c'è un altro che non mi preoccupa perché ci vorrà del tempo ma secondo me alla fine resta tra i campioni d'Europa e ci mancherebbe del Bayern lui vuole restare in Germania poi devo dire Perisi ha un costo di ammortamento di 5 milioni è un altro che comunque Conte mi pare non voglia riportare e poi ragazzi ci sono quelli che voglio vedere Marotta come li vende cioè il Vessino che costa 10 milioni ne guadagna 9 e comunque è sempre infortunato e quindi se una volta aveva un lavoro un valore adesso appunto per trovare un lavoro bisogna trovare chi ne sia estimatore Asamoah ammortamento un milione ma quanto ci vuoi ricavare che tra l'altro il contratto è in scadenza praticamente l'anno prossimo Asamoah non è un problema di Vessino ho parlato di Perisic vi ho detto a Brozovic col Bayern c'è appunto questa dovrebbe essere la cessione forte insieme a quella di Skriniar che consentirebbe di avere tanti soldi Brozovic sembra che Calle Rummenighe il nostro amico Calle Rummenighe sia interessato lo voglia portare al Bayern Brozovic era un intoccabile poi l'estracampo di cui parlavo prima che l'estracampo di Vidal evidentemente a Conte va bene quello di Brozovic meno si è ritrovato sul mercato e quindi siccome il Bayern ha ceduto Thiago al Liverpool potrebbe pensare a Brozovic però stanno già a discutere sui 5-10 milioni di Perisic per riscattarlo anche lì non so quanto puoi ricavare realisticamente da Brozovic se hai bisogno con tanti per fare altre operazioni di mercato quindi prendetela con beneficio di inventario però mi pare assodato che a centrocampo Conte voglia Vidal e Cantè che è sempre il sogno insomma o Don Belè insomma questi nomi qui e quindi è chiaro che a un certo punto i soldini te li fai con Skriniar e Brozovic anche perché se vi dico gli altri esuberi mi viene da piangere cioè Dalbert la Fiorentina non l'ha voluto noi avremmo tenuto volentieri Biraghi e Dalbert è uno che incide ancora per 10 milioni sul bilancio e Dalbert ragazzi qui è un casino io posso dire a Marotta di tutto ma come lo vendi Dalbert insieme a Vestino e poi c'è l'altro ragazzi di Nainggolan ho già parlato secondo me la soluzione si trova col caro e poi c'è l'altro e poi c'è l'altro quello che ti viene qua come una cartella esattoriale ogni anno sai la cartella esattoriale di cui ti sei dimenticato? Joao Mario cioè dove domando io Joao Mario? Ecco Joao Mario sappiate che incide ancora per 13 milioni cioè Joao Mario costa qualcosa come 23 milioni lordi cioè io da andare a prendere i soldi da Joao Mario ma dove li prendo mai i soldi per Joao Mario? Questo qua è un incubo ragazzi questo qua è un reale incubo anche perché ovviamente si troverà il modo di darlo via in prestito ma per andare via in prestito questo vuole ancora che gli si allunghi il contratto esattamente come è capitato nel 2022 e io non posso vivere ragazzi con l'incubo Joao Mario fatemi guardare il mare del Salento che mi tranquillizzo perché veramente Joao Mario qui tu c'hai Joao Mario tu ogni anno c'hai Joao Mario sul collo e avete capito qual è il problema degli esuberi quindi va bene che Marotta è un dio da questo punto di vista ragazzi ma piazzare Joao Mario un'altra volta e cercare e pensare di poter prendere i soldi che ti servono per andare a sistemare la squadra centrocampo mamma mia ragazzi mi pare un pochino difficile vabbè vabbè ragazzi questo era il punto della situazione quindi i giovani hanno lasciato il posto agli anziani so che alcuni non sono contenti vediamo che cosa accade nei prossimi giorni pertanto qua c'è una novità al giorno vi bacio amici del sito www.gianlucarossi.it del canale youtube Gianluca Rossi TV grazie per il sempre crescente seguito ma io devo vivere con Joao Mario in mezzo vabbè